nell'approccio con la partita. Non cerchiamo di partire noi in vantaggio, cioè di non subire prima per poi mettere in campo delle forze che poi non ci bastano per fare risultati e per giocare bene. Cerchiamo di entrare in campo anche queste partite che nel calcio le partite sulla carta sono semplici, noi le dobbiamo far diventare semplici andando in campo con la giusta cattiveria, con la giusta concentrazione, con la giusta voglia di giocare al calcio e di essere una squadra, di giocare tutti quanti insieme per raggiungere l'obiettivo, cioè quello di divertirci, far divertire perché abbiamo le qualità per far divertire, anche se non abbiamo tanto pubblico, ma non fa niente, è per ottenere anche il risultato che a questo punto la classifica ce lo consente, guardiamo partita dopo partita, quindi andiamo in mezzo al campo e facciamo vedere di quale pasta è fatta questa squadra, noi siamo uno squadrone e lo dobbiamo dimostrare d'amor alla fine del campionato, per questa grande squadra, per questo magico gruppo, Ibiri Ura! Ibiri Ura! Ibiri Ura! Ibiri Ura! 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 Ura!